Un'intera scuola media è stata chiusa nel comune di Prato Vecchio, Stia, è il plesso che si trova alle nostre spalle. Si tratta dell'istituto comprensivo Alto Casentino che si trova nel comune di Prato Vecchio, Stia, in provincia di Arezzo. Tutto è partito da un primo caso positivo, uno studente di classe prima e i successivi tamponi hanno confermato altri casi. Al momento sarebbero sette. La classe, come da normativa, è andata interamente in quarantena ed assieme agli studenti anche 11 insegnanti. Tra l'altro sono tutti ragazzi non vaccinati perché ancora sotto i 12 anni. Il dirigente scolastico Maurizio Librizi si è visto così costretto a chiudere l'intero plesso perché di fatto non ci sono insegnanti disponibili per le altre classi. Al momento in cui la nostra troupe si trova sul posto arrivano anche due funzionari della ASL che confermano che qui c'è un focolaio. Tutto ciò grazie ai Novax. Finché non siamo tutti vaccinati sarebbe bene che stessero chiuse le scuole, questa è l'unica cosa che posso dire. Io sono per il vaccino. Questi erano bambini di prima quindi non si potevano ancora vaccinate. No, i bambini no, però comunque finché non è chiara un po' la situazione secondo me sarebbe bene anche per preservarli, tenerele chiuse le scuole. Ho detto che è l'ora che la gente si vaccini perché sennò qui non si finisce più. Ecco questi erano bambini però di 11 anni quindi no. Ma vuol dire che in famiglia non si sono vaccinati, da qualcuno l'avranno preso, non sono soldi per prenderlo, basta uno. Non si sa da che cosa lo prendono e d'altra parte ne possono ne chiudere in casa, i ragazzi devono uscire. Grazie. Grazie. Grazie.